Mi faccio impresa, 28 maggio 2012, Milano, iniziamo l'Elevator Pitch, una cultura che per l'Italia non è molto approfondita, molto conosciuta, ma che dici? Giuseppe Macitelli? Io ho visto diversi anni fa un film bellissimo che si intitolava, forse il titolo non me lo ricordo, ma il concetto era Passi il favore, cioè se noi riuscissimo a fare un regalo a qualcuno, poi questo regalo prima o poi torna indietro. Io nella mia vita ne ho ricevuto più uno di regali, poi possiamo dire se me li meritassi o no, però sono stato aiutato da qualcuno che ha creduto nelle cose che pensavo, nei miei progetti, mi ha finanziato e sono andato avanti, sono arrivato fino a qua. Allora penso che sia un dovere doverlo rifare, ripassare il favore, quindi anche se sono un piccolo investitore, perché ecco, calmatevi subito perché non siamo in presenza di un multimiliardario americano, però se posso aiutare qualche buona idea a crescere, non solo è un business, perché lo si fa per business principalmente, ma è un dovere che sento forte, di dover ritornare quello che ho avuto. E quindi benvengano queste iniziative. Grazie Giuseppe Macitelli, allora parti tu, sei il primo e vai con la tua presentazione.